Mettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni. Dal Santuario della Santa Casa di Loreto, Cappella dei Santi Pellegrini, preghiamo l'Angelus e del Santo Rosario in unione con tutti coloro che ci seguono da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo oggi Maria, Regina, per la pace e per il mondo in guerra. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. L'Angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed è la concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore. Si compia in me la Tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. E il verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo, infondi nel nostro spirito la Tua grazia, Padre. Tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai pelato l'incarnazione del tuo figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Ave, Vergine Maria. Ave Maria, piena di grazia, Ave, Vergine Maria. Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia di Gesù nell'orto degli olivi. Pater nostro, qui e sinceri, santifici tu un nome in tu, adveniat regnum tu, fiat volontas tua, sicuti in cielo e in terra. Pane nostro, un quotidianum, da nobis odie, ed imite nobis debita nostra, sicute nos dimitibus debitoribus nostris, ete nos inducas in tentazione, se libera nostra malo. Amen. Maria, regina della pace, prega per noi, prega per noi. Ave Maria, grazia, plena Domino, stecum benedicta tui mulieribus, ete benedictus fruttus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia, plena Domino, stecum benedicta tui mulieribus, ete benedictus fruttus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia, plena Domino, stecum benedicta tui, Iesus. e de benedictus fruttus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia, plena Domino, stecum benedicta tui mulieribus, e de benedictus fruttus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia, plena Domino, stecum benedicta tui mulieribus, e de benedictus fruttus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia, plena Domino, stecum benedicta tui mulieribus, e de benedictus fruttus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia, plena Domino, stecum benedicta tui mulieribus, e de benedictus fruttus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia, plena Domino, stecum benedicta tui mulieribus, e de benedictus fruttus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia, plena Domino, stecum benedicta tui mulieribus, e de benedictus fruttus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ave Maria, grazia, plena Domino, stecum benedicta tui mulieribus, e de benedictus fruttus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'odato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe Maria. Nel secondo mistero del dolore contempliamo la flagellazione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Metti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma di verci dal male. Maria, Regina della Pace, prega per noi, prega per noi. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Glorie al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel terzo mistero contempliamo la coronazione di Spina e di Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Maria, regina della pace, prega per noi, prega per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori. Amen. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Adesso è nell'ora della pace, prega per noi, peccatori. Amen. Adesso è nell'ora della pace, prega per noi, peccatori. Amen. Adesso è nell'ora della pace, prega per noi, peccatori. Amen. Adesso è nell'ora della pace, prega per noi, peccatori. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori. Amen. Adesso è nell'ora della pace, prega per noi, peccatori. Amen. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel quarto mistero del dolore contempliamo Gesù che sale il Calvario, carico del pesante legno della croce. Padre, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Maria, Madre di Dio, prega per noi, prega per noi, prega per noi. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, cheia di grazia, il Signore è convosco. Bendita sois Voi, entre le donne, e bendito è il frutto del Vosso ventre, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, cheia di grazia, il Signore è convosco. Bendita sois Voi, entre le donne, e bendito è il frutto del Vosso ventre, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, cheia di grazia, il Signore è convosco. Bendita sois Voi, entre le donne, e bendito è il frutto del Vosso ventre, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, cheia di grazia, il Signore è convosco. Bendita sois Voi, entre le donne, e bendito è il frutto del Vosso ventre, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, cheia di grazia, il Signore è convosco. Bendita sois Voi, entre le donne, e bendito è il frutto del Vosso ventre, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, cheia di grazia, il Signore è convosco. Bendita sois Voi, entre le donne, e bendito è il frutto del Vosso ventre, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, cheia di grazia, il Signore è convosco. Bendita sois Voi, entre le donne, e bendito è il frutto del Vosso ventre, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, cheia di grazia, il Signore è convosco. Bendita sois Voi, entre le donne, e bendito è il frutto del Vosso ventre, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, cheia di grazia, il Signore è convosco. Bendita sois Voi, entre le donne, e bendito è il frutto del Vosso ventre, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Glorie al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli, nei secoli. Amen. L'ho dato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe Maria. Nel quinto mistero del dolore contempliamo la crocifissione e la morte di Gesù in croce. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Maria, regina della pace, prega per noi, prega per noi. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Glorie al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli, nei secoli, nei secoli. Amen. L'odato sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe Maria. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, Esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gemelli e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore Pietà, Signore Pietà, Cristo Pietà, Cristo Pietà. Signore Pietà, Signore Pietà, Signore Pietà. Santa Maria, prega per noi, Santa Madre di Dio, prega per noi, Santa Vergine delle Vergini, prega per noi, Madre di Cristo, prega per noi, Madre della Chiesa, prega per noi, Madre di Misericordia, prega per noi, Madre della Divina Grazia, prega per noi, Madre della Speranza, prega per noi, Madre Purissima, prega per noi, Madre Castissima, prega per noi, Madre sempre Vergine, Madre Immacolata, Madre degna d'amore, Madre ammirabile, Madre del Buon Consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Vergine prudente, Vergine degna di onore, Vergine degna di lode. Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, specchio di perfezione, sede della sapienza, fonte della nostra gioia, Tempio dello Spirito Santo, Tabernacolo dell'eterna gloria, dimora consacrata a Dio. Rosa mistica, torre della santa città di Davide, fortezza inespugnabile, santuario della divina presenza, arca dell'alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, prega per noi, rifugio dei peccatori, prega per noi, conforto dei migranti, prega per noi, consolatrice degli afflitti, prega per noi, aiuto dei cristiani, prega per noi, regina regina degli angeli, prega per noi, regina dei patriarchi, prega per noi, regina dei profeti, prega per noi, regina degli apostoli, prega per noi, regina dei martiri, prega per noi, regina dei confessori della fede, prega per noi, regina delle vergini, prega per noi, regina di tutti i santi, prega per noi, Regina concepita senza peccato, regina assunta in cielo, regina del rosario, regina della famiglia, regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore, ascoltaci, Signore, agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo con la preghiera a pagina 13 del libretto. O Maria, Vergine Lauretana, il mondo ha nostalgia di Te, la Tua piccola casa e memoria eloquente, di valori perduti ma ancora sognati. Le povere pietre silenziosamente parlano e gridano che è Dio la vera ricchezza. La semplicità insegna e dolcemente ricorda che l'umiltà è la terra della vera grandezza. O Maria, Vergine Lauretana, il silenzio della Tua casa custodisce il sì che ci appartiene e al quale noi tutti apparteniamo. E il sì che è interrotto la catena dei nostri no. E il sì che è diventato coppo del Figlio di Dio, salvatore del mondo, ieri, oggi e sempre. O Maria, Vergine Lauretana, mentre passano i secoli e i millenni, noi ci appoggiamo al Tuo cuore di madre per intonare nel nostro povero cuore la melodia del Tuo sì che ci riempie di eterno e ci rende pellegrini felici verso la santa casa dei figli di Dio. Amen. Sotto la Tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Angelo di Dio, che sei un custode, da l'unico che ti unisci e regge di mani a me, che ti fai affinato nella vita celeste. L'eterno riposo. Dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposi in pace. Le anime dei pastori e dei fedeli defunti, per la misericordia di Dio, riposino in pace. Amen. Invochiamo la benedizione del Signore. Scenda su di noi, sulle nostre case, sulle nostre famiglie, sulle persone che si raccomandano le nostre preghiere, che pregano con noi da casa, particolarmente sui sofferenti e sugli ammalati. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica, Dio Onnipotente, Padre, Figlio, e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Prendiamo grazie a Dio. E il tuo sin, che ci apre il cuore, Santa Maria, prega tu per noi. e il tuo sin, e il tuo sin, nella santa casa, che ci protege, consolam. Ave, 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 Ave Maria, Ave, 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 Ave Maria, Ave, 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 Ave Maria, 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 L'Angelus e il Santo Rosario, grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.